Cari pellegrini, abbiamo spesso detto il fatto che l'uomo diventa effettivamente se stesso e diventa grande non quando gonfia il petto ma quando si inginucchia. Dunque la preghiera, possiamo dire così, è l'atto umanamente più vero. Ma perché dobbiamo pregare? Che cosa dice la teologia spirituale in merito alla preghiera? Quali sono i motivi per cui noi dobbiamo pregare? Ebbene, la teologia spirituale individua cinque motivi. Il primo motivo, dobbiamo pregare perché Dio nostro Signore ce lo comanda. Gesù ci ha detto che dobbiamo pregare sempre e ci ha insegnato anche la preghiera, il Padre nostro, con cui rivolgerci al Padre. Secondo motivo, dobbiamo pregare per adorare Dio, cioè per riconoscere la nostra assoluta dipendenza da Dio. Vedete, qui si evidenzia anche la preghiera come atto veramente intelligente, perché l'uomo è intelligente quando capisce, quindi quando non nasconde, non nega la sua precarietà, il suo limite, e quindi la sua dipendenza, necessaria dipendenza da Dio. Terzo motivo, dobbiamo pregare per lodare e ringraziare Dio per tutti i benefici che ci concede. Tutto ciò che abbiamo, lo abbiamo, ma non appartiene a noi, non lo abbiamo per nostro merito. I talenti che eventualmente abbiamo ricevuto, li abbiamo ricevuti da Dio, non sono talenti di nostra proprietà. L'unico nostro merito è quello di far trafficare questi talenti e quindi di corrispondere ai doni ricevuti da Dio. E una corrispondenza a questi doni è appunto ringraziare Dio, capire che tutto ciò che abbiamo lo abbiamo per grazia di Dio e quindi corrispondere a Dio, ringraziare a Dio, ringraziare Dio. Quarto motivo per cui dobbiamo pregare è per chiedere perdono per i peccati commessi. L'uomo è sempre peccatore. Noi possiamo e dobbiamo limitare i nostri peccati, però di fatto siamo sempre peccatori. Il giusto pecca sette volte al giorno. Ovviamente dobbiamo eliminare, dobbiamo odiare il peccato, il peccato mortale, che è la tragedia più grande che possa capitare. Però nello stesso tempo sappiamo bene che determinati peccati sono ineliminabili, i peccati veniali, i peccati soprattutto quelli semideliberati. E dobbiamo dunque pregare per chiedere continuamente, invocare continuamente la misericordia di Dio sulle nostre miserie, sulle nostre fragilità. Quinto motivo per cui dobbiamo pregare. Dobbiamo pregare per chiedere a Dio tutte quelle grazie spirituali e materiali che ci possono essere utili o necessarie per la salvezza eterna. Ecco, ricordiamo quella famosa espressione di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, «Chi prega si salva e chi non prega si danna». Dobbiamo tenere presente che la salvezza è sempre risultato di una corrispondenza, di una sinergia. Da una parte la salvezza è un dono di Dio, dall'altra noi dobbiamo corrispondere a questo dono di Dio. E' come trovare un oggetto prezioso che eventualmente noi avessimo perduto. Se va via la luce possiamo sforzarci quanto vogliamo. L'oggetto prezioso non lo ritroveremo mai. Occorre che arrivi la luce, la luce illumina il locale, illumina la stanza, ma malgrado la luce non è che questo oggetto prezioso così compare dinanzi al nostro sguardo. Dobbiamo noi sforzarci e quindi trovare quell'oggetto prezioso. Capite bene che il ritrovamento dunque è il risultato da una parte della luce e dall'altra del nostro sforzo. E così è anche la salvezza. Ecco perché dobbiamo pregare Dio che ci aiuti nella nostra salvezza e nello stesso tempo che ci dia la forza di corrispondere alla grazia. Questi sono i motivi per cui è un obbligo pregare. È la nostra umanità. Ce la giochiamo fondamentalmente sulla nostra capacità di pregare. Bene, cari pellegrini, terminiamo qui. Ci diamo appuntamento al prossimo editoriale. Vi saluto caramente ricordandovi che Dio è verità, botà e bellezza. Grazie.